Signor Ministro, rappresento la televisione cinese. Il 28 maggio il Presidente degli Stati Uniti Biden, accettando l'intervista, citò e disse L'economia della Cina è sull'orlo del collasso. Secondo lei, quali sono i risultati del lavoro dell'economia cinese? Potrebbe dire perché l'economia che è sull'orlo? Ciò che la Nato definisce un fattore decisivo e determinante del conflitto ucraino. Ha detto che è l'economia che è sull'orlo. E come può un'economia che è sull'orlo diventare un fattore decisivo e determinante di ciò che è stato detto nel comunicato Nato riguardo alla Cina, che contribuisce al conflitto? Questa dichiarazione è come si relaziona alla realtà dell'economia cinese. Sviluppa potentemente, tumultuosamente. Sì, stanno cercando di fermarla. E di recente, quando il Presidente Xi Jinping era in Francia, oltre a Macron, anche Ursula von der Leyen ha parlato con lui. Essi, rappresentanti dell'Unione Europea, hanno pubblicamente dichiarato, al termine di questi negoziati, che abbiamo chiesto alla Cina di ridurre la produzione di beni high tech. Perché? L'Occidente ha ceduto la sfida. Come si concilia questo con i principi del libero mercato e della concorrenza leale? L'Occidente vuole rallentare l'economia cinese. Oltre a chiedere di smettere di produrre molti beni economici e buoni, vengono imposte sanzioni per rallentare lo sviluppo tecnologico della RPC in altri settori dell'economia. Ma non ci devono essere dubbi. Più ci saranno restrizioni che screditano completamente il modello della globalizzazione promosso dallo stesso Occidente, l'unità dell'economia mondiale. Più saranno, più aggressivamente agiranno i padroni di quello ancora di Bretton Woods. Più attivamente e efficacemente lavoreranno e creeranno le proprie tecnologie, i propri prodotti, nei paesi contro i quali vengono applicate queste sanzioni. Questo, ovviamente, include la Repubblica Popolare Cinese, la Federazione Russa e molti altri. Ma per quanto riguarda la Cina ancora interessante, ho letto una dichiarazione, ora non ricordo. Secondo me lo ha detto Stoltenberg, ma potrei sbagliarmi. Ha commentato le esercitazioni militari che si sono svolte tra la Cina e la Bielorussia sul territorio bielorusso. E lui seriamente ha dichiarato con tale enfasi che è una cosa pericolosa perché la Cina si sta avvicinando alla Nato. Gli americani si sono avvicinati alla Cina molto tempo fa, ora stanno circondando la Cina e davvero anche la Russia, soprattutto ai nostri confini. Strutture di blocco e AUKUS. E gli USA, il Giappone, la Corea. Gli USA stanno concludendo accordi con la Corea del Sud sulla politica nucleare congiunta e molto altro. Cercano di dividere l'oceano, attirare alcuni paesi nelle loro file. Nelle file di queste strutture di blocco chiuse. E anche la Nato stessa ha deciso di promuovere la sua infrastruttura, come dicono loro, nella regione Indo-Pacifica. E i passi concreti sono già in atto. Stoltenberg stesso ha dichiarato, rispondendo alla domanda, ma come vi siete sempre definiti un'alleanza difensiva, un'alleanza per la protezione del territorio dei paesi membri. Dice che rimaniamo un'alleanza difensiva, ma che le minacce per la nostra alleanza ora sono globali, quindi dobbiamo andare nella regione Indo-Pacifica. Penso che l'aggressiva, l'ingiusta essenza di questa posizione è naturalmente chiara a tutti, con la Repubblica Popolare Cinese e con i nostri altri partner, nell'ambito dell'organizzazione della cooperazione di Shanghai, dei contatti con il Xi'an. Il Consiglio di cooperazione degli Stati Arabi del Golfo sostiene che è necessario elaborare un modello di sicurezza basato sull'uguaglianza, l'indivisibilità della sicurezza e la piena considerazione reciproca degli interessi, sul bilanciamento di questi interessi. Penso che questo modello avrà bisogno di molto tempo in futuro, perché si realizzi, è stato annunciato dal Presidente un mese fa, quando è intervenuto al Ministero degli Affari Esteri, sottolineando in particolare che questa iniziativa prevede che il sistema di sicurezza euroasiatico sarà aperto a tutti i paesi e le organizzazioni del continente euroasiatico, inclusi quelli situati nella parte occidentale dell'Eurasia, se e quando questi paesi capiranno che i blocchi natocentrici li dirigono nella direzione sbagliata. Sapete, l'Europa sta attualmente soffrendo economicamente a causa del fatto che è stata costretta a sopportare il peso principale delle sanzioni, costretti a smettere di comprare il gas ucraino, anche se questo processo non è ancora del tutto compiuto. Si sentono discorsi simili e naturalmente hanno fatto esplodere i gasdotti Nord Stream che avrebbero dovuto continuare a garantire il benessere dell'economia tedesca e con la Germania di tutta Europa. L'Europa, dopo l'introduzione delle sanzioni, ha iniziato a pagare 200 miliardi di euro in più per le fonti energetiche. E poi ci sono state varie leggi negli Stati Uniti per combattere l'inflazione. Il risultato è stato che le imprese europee hanno iniziato a trasferirsi negli Stati Uniti. Dov'è l'industrializzazione? L'Europa è minacciata. Ecco perché questo è un estremo o non un estremo. Brink o non Brink. E chi valuta in modo errato Brink l'economia cinese? Basandosi sugli interessi geopolitici. Bisogna basarsi sui fatti. Grazie.